Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon lunedì e buon inizio ufficiale di stagione a tutti quanti. Comincia oggi, infatti, il 2022-2023 del nostro Toro, comincia dal Philadelphia, questa settimana sarà la prima parte di una ripartenza, dopo una stagione sulla quale si è già detto abbastanza e in questa prima settimana la squadra si ritrova per i test fisici, i primi allenamenti, sarà una squadra ridotta all'osso, ci saranno diverse assenze legate ai nazionali che sono ancora in vacanza, c'è qualche fortunato che sta ancora riprendendo e volti nuovi non ce ne sono. Volti nuovi non ce ne sono e questa cosa chiaramente ha un po' indispettito i tifosi, anche giustamente da un certo punto di vista, soprattutto perché parallelamente in questi giorni sono ufficialmente andati persi diversi calciatori che la società ragionevolmente o meno ha deciso di non riscattare o comunque sui quali si è pensato di non puntare. Abbiamo visto che alla fine la questione Mandragora si è risolta a favore della Fiorentina, si sa che il Toro ha perso tantissimi titolari dell'anno scorso, si sta perfezionando in questi giorni la cessione di Bremer, che comunque andrà via, per quanto in questo momento sia anche lui, a Torino e a Filadelfia a svolgere le visite mediche, e poi la questione Belotti dalla quale partirei nel video di oggi per fare un po' il punto complessivo di quello che dobbiamo aspettarci da qui a lunedì prossimo, giorno in cui la squadra partirà per il ritiro vero e proprio che si svolgerà in Austria. Belotti attualmente è un giocatore svincolato, dal primo luglio non è più ufficialmente un giocatore del Torino, finisce una storia, durata sette anni, più di cento gol e tutto quello che ne consegue, e finisce dal mio punto di vista nel peggiore dei modi, da entrambe le parti, perché la società non ha celebrato abbastanza, secondo me, un giocatore che, vuoi o non vuoi, un pezzo di storia recente del club l'ha scritta, questa non è un'opinione, ma è un dato di fatto, perché comunque già nel calcio di oggi trovare un giocatore che ai nostri livelli si fermi sette anni, non dico sia difficile, ma è praticamente impossibile, ha comunque segnato tanto, è uno dei bomber storici della storia del Toro, e liquidarlo con un comunicato molto freddo e anche abbastanza rancoroso come quello della società l'ho trovato davvero poco elegante, non che io mi aspetti dello stile, del rispetto da questa proprietà, ma secondo me ci sono dei limiti che non vanno superati, in questo caso è stato ampiamente superato, un comunicato che dice poco, che comincia con tipo caro Andrea prendiamo atto della tua decisione, sembra più un'azienda che si separa da un manager col quale ha rotto, e la rottura sicuramente c'è stata, a questo punto io spero che Belotti non abbia la malsana idea di pubblicare qualcosa sui suoi account social, perché c'è anche da dire questo, se voleva salutare i tifosi avrebbe avuto altri momenti per farlo, ora più passano i giorni, e oggi è il 4 luglio, poco dopo le 9, sto registrando questo video e ancora non ha proferito parola, ecco, più fa passare il tempo, più secondo me la situazione peggiora, quindi a questo punto, e lo dico proprio per lui, perché qualora dovesse nei prossimi giorni voler comunque dare il proprio commiato e salutare i tifosi, quindi rastrellerebbe tutto il peggio che la nostra tifoseria da offrire, a partire dai tifosi che per dare contro a questa società si inventerebbero di tutto e starebbero anche dalla parte di Totorina, passando per quelli che non hanno capito che Belotti, esattamente come tutti gli altri, può ragionevolmente pensare a quello che lui ritiene essere meglio per la sua carriera, perché questi sono calciatori, ma sono anche dipendenti e professionisti, e che giustamente non mettono in secondo piano non solo l'ambito sportivo, ma anche quello economico, e per finire alla categoria peggiore, quella che andrebbe a insultargli i parenti fino alla terza generazione, quindi io se fossi lui, ormai il treno per salutarsi come si deve, è passato, lascerei perdere, perché appunto la situazione non può che peggiorare, conosco i miei polli e si sa già come andrebbe a finire, se poi magari spiegasse anche alla moglie come si usano i social network, quello sarebbe meglio, perché in un mese e mezzo la moglie ha fatto più danni della grandine, e quindi magari un uso un pochino più consapevole di mezzi tecnologici così importanti e influenti, sarebbe consigliabile, questo è quello che mi sento di dire, per il resto, grazie Belotti, grazie Ansaldi, che la società ha deciso proprio di non salutare, neanche con un post, con un... Oddio, se dovevano fare un video di tributo come quello fatto per Belotti, messo insieme con una di quelle app gratuite che si trovano sugli store dei telefoni, allora meglio lasciar perdere. Qua purtroppo entreremo anche in un altro capitolo molto dolente, quello della gestione anche dell'immagine, no? Della società Tornfc, un'immagine di un'azienda che non collima affatto con lo status del suo proprietario e con quello che in questi decenni Cairo ha fatto all'interno proprio dell'ambito pubblicitario, cioè un sito internet inguardabile, video, tributi, una app che non funziona, tutto lasciato così al caso. Queste cose a me fanno impazzire, perché nel 2022 io non pretendo che mi porti a Torino-Neimar, però pretendo che almeno a livello di immagine si faccia qualcosa per, insomma, per essere spendibili, no? sul mercato attuale. E invece neanche questo. Io credo che il Toro non abbia un vero compartimento legato ai social... che si occupa di social network, altrimenti se lo avesse sarebbe veramente preoccupante il lavoro che fanno queste persone. Ci sarà un tutto fare che insieme alle altre mille cose che gli vengono richieste avrà dovuto mettere insieme dei video in fretta e furia con i risultati che tutti abbiamo visto. questo è quanto e in giro ci sarebbero invece tante persone che sarebbero adatte a fare quel tipo di lavoro e non penso che tu gli debba pagare degli stipendi milionari anziché buttare soldi per certa gente magari ne impiegassime in società per migliorare almeno strutturalmente il Torino FC non sarebbe male. Questa mattina vi sembra più polemico del solito? È possibile, forse perché lo sono, ma in ogni caso, ecco, da qua all'Austria deve succedere qualcosa. Ora torniamo un attimo al di là di Belotti, Assaldi e quant'altro al discorso nuova stagione quindi proviamo a guardare avanti. Chi è preoccupato ha sicuramente le sue ragioni io entro lunedì mi aspetto almeno due o tre colpi d'entrata non è possibile pensare stamattina leggevo proprio la rosa che parte che insomma si raduna questa settimana a Filadelfia con questi giocatori qua per una parte importante come la preparazione fisica estiva con il mister cioè tu praticamente a lui non dai la squadra del prossimo anno quindi è un lavoro che non dico rischia di diventare inutile ma ci va molto vicino per questo dico questa settimana in qualche maniera bisogna fare qualche operazione in entrata soprattutto nei ruoli che sono ampiamente scoperti sicuramente la tre quarti dove praticamente non c'è nessuno o meglio c'è qualcuno a livello di nome ma sono tutti giocatori che non rientrano nelle idee del mister Verdi che rientra da Salerno a proposito la salernitana era a un passo da riscattare Verdi poi guarda un po' casualmente invece non lo riscattano una delle tante voci che si sono lette da tutti questi insider questi giornali questi siti che guadagnano sui vostri click e sulle vostre interazioni e si fanno un nome poi finiscono anche magari in televisione a parlare di fuffa di fuffa forte e non solo ieri ho fatto due o tre tweet anche lì abbastanza polemici sul fatto che troppi tifosi vanno dietro a gente che poi si dimostra non sapere nulla strumentalizzano qualunque cosa leggano o sentano a loro favore per dare conto alla società questa società ha pochi motivi per essere supportata intendo proprio a livello aziendale progettuale ma di sicuro non ce la si può prendere ogni volta che un calciatore XY va a un'altra squadra questa cosa personalmente mi fa impazzire perché in quest'ora abbiamo la causa scatenante è stato il passaggio di Gollini alla Fiorentina che forse non è ancora venuto avverrà ho letto che farà le visite mediche quindi immagino che insomma siano ai dettagli e ci hanno fregato Gollini come prima ci avevano fregato Cragno ma ragazzi ma questi sono profili che non abbiamo mai trattato lo dice la logica il problema che a forza di andare dietro alla qualunque e a non saper selezionare le fonti dove insomma poter pensare che certe notizie abbiano un minimo di credibilità si finisce per fare degli psicodrammi che amplificano già la situazione comunque non facile ok quindi fate attenzione quando leggete qualcosa discernete le informazioni che chiaramente in un'era così connessa arrivano migliaia ogni giorno ok perché al momento giornali siti di 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 ben informati e quant'altro non ne hanno beccata mezza sul torino non ne hanno beccata mezza e quindi questo vale sia quando si legge torino vicino a x al torino piace y probabilmente quelli sono nomi per riempire le pagine e ora vi spiego anche le dinamiche visto che più o meno io ci sono anche dentro questo a questo lavoro però vale anche il contrario ogni volta in cui un altro club acquista un calciatore non è che ce lo hanno fregato ce lo avrebbero fregato se noi lo avessimo trattato gli esempi di golini e cranio secondo me sono abbastanza esplicativi poi magari se li avessimo trattati per davvero ce li avrebbero fregati lo stesso d'altronde per come ci stiamo muovendo sul mercato mi sembra che molti margini di trattativa non li abbiamo ma nel momento in cui non li tratti non possono averli fregati perché altrimenti vale veramente tutto e qui veniamo appunto all'influenzabilità di chi legge e di chi verso chi movimenta e chi delinea e incanala certe informazioni e voi dovete capire che oggi come oggi pubblicare ogni giorno un quotidiano è difficile avere un sito 24 ore di news che faccia click interazioni e porti entrate all'editore che è quello che lo finanzia è difficile e quindi cosa si fa ci si ingegna ci si ingegna perché chi lavora dietro queste realtà probabilmente è sottopagato ma qualcosa sul tavolo la sera lo vuole mettere quindi non gli si può neanche dare così torto soprattutto se si parla di siti dietro invece ai quotidiani ci sono altre dinamiche editoriali molto più molto più complicate e quindi molto spesso capita semplicemente che quando non si ha nulla da scrivere si va sui social si va sulle pagine dei club di riferimento si fa una miscellanea di commenti e ci si fa uscire magari 4-5 colonne da pubblicare il giorno dopo e se faccio un esempio stupido su uno degli argomenti più caldi per quanto concerne il toro per mesi e mesi sui social si legge speriamo che vada tutto male perché così Yuri ci si rimette e gliela mette in quel posto a Cairo è molto probabile che i giornalisti ci faranno un articolo e amplificheranno la cosa purtroppo sui social chi fa notizia sono quelli rumorosi e non importa se siano tanti o pochi perché chi prova a ragionare e a razionalizzare molto spesso non urla molto spesso non parla ragiona e poi magari si confronta mentre invece i social sono uno sfogatoio insulti continui e su questo i giornalisti marciano ok e riempiono pagine e pagine di fuffa di fuffa anche perché non sanno cosa scrivere proprio perché nello specifico sul mercato del toro non trappela nulla e anche questo senso di stizza li porta a sparare contro la società che per carità ci sono tantissimi motivi già validi per farlo non diamo modo loro di aggiungerne altri ecco questo volevo dire poi ognuno faccia come crede io vi dico quello che penso potrei benissimo sbagliare ci mancherebbe ci mancherebbe altro non mi soffermo sul mercato anche perché siamo già a 14 minuti e vi ho annoiato abbastanza tanto ragazzi il 99% dei nomi che si sono fatti fino ad oggi sono cazzate cazzate di gente che deve vendere i giornali deve fare i click e deve accalappiarvi sui social network quando poi ci sarà qualcosa di veritiero io sarò il primo a parlarvene qua anche dal punto di vista un pochino più tecnico-tattico e rientriamo un po' nei temi che ci piacciono di più ovvero il calcio giocato nel frattempo vi saluto vi ringrazio per avermi ascoltato lasciate un like al video iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e attivate la campana degli aggiornamenti ci vediamo molto presto e sempre forza torre grazie a tutti